cari amici cari amici cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è sabato 8 ottobre 2011 sabato 8 ottobre 2011 e vedete il titolo della nuova trasmissione è Steve Jobs il poeta il destino vuole che la morte di Steve Jobs sia coincisa quasi alla perfezione con l'attribuzione di un premio Nobel alla poesia a un certo poeta tal di tali un poeta nordico va bene che si chiama Thomas e Franz Stromer uno svedese uno svedese e però quelli che si sono interessati di questo premio Nobel al poeta tal di tali credo che siano stati quattro gatti quattro gatti ammuffili e invece quelli che si sono interessati della morte di Steve Jobs sono stati quasi tutti i giovani del pianeta i giovani del pianeta e io penso che quando morirà il poeta premio Nobel Thomas Franz Stromer i giovani neanche lo verranno sapere neanche se ne interesseranno per cui c'è da chiedersi che invece perché i giovani tutti i giovani di tutto il pianeta sono rimasti tanto colpiti dalla morte di Steve Jobs e c'è da chiedersi che cosa sia la poesia si cari io se voi andate sul mio website personale www.masoniserafino.it mio website personale voi tra le mie pubblicazioni trovate anche un pamflet un pamflet letterario editoriale capito che lo potete leggere gratis lo potete scaricare gratis e dove vi parlo della poesia della narrativa dei generi letterari e vi spiego bene che la poesia è un genere letterario obsoleto ma è obsoleto già da quando fu inventata la scrittura perché è la poesia la poesia che continua a sopravvivere come quei poveretti che finiscono che finiscono a sopravvivere con la cannuccia lo sapete no? quelli che vivono con la cannuccia con la cannuccia per dire come la povera Erwana Ingraro e così la poesia continua a sopravvivere come quei poveretti di noi di noi che finiscono in coma profondo e vengono alimentati e hanno una vita vegetale punto e basta così la poesia che tipo di genere letterario è la poesia? la poesia è un genere letterario che aveva il suo scopo il suo scopo il suo scopo di vivere prima che nascesse la scrittura prima 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 in tutti i millenni precedenti diciamo così il mille avanti Cristo grosso modo perché allora non essendo l'umanità ancora capace di leggere o di scrivere la trasmissione del sapere avveniva a voce e l'umanità aveva scoperto che se la trasmissione del sapere avveniva in rima in rima con la cantilena il sapere lo si ricordava meglio era nata così quella che oggi noi conosciamo come poesia il sapere veniva messo in filastrocche diciamo in filastrocche e lo si canta la cantilena lo si cantilenava la cantilena lo si cantilenava non so la sera attorno al fuoco c'erano gli anziani e tutti ripetevano e si ricordava veniva memorizzato meglio il sapere non c'erano i libri ancora capite cari ragazzi poi quando nacque la scrittura non ci sarebbe più stato bisogno della poesia le cose si potevano dire in prosa in prosa perché ormai la trasmissione del sapere veniva tramite i libri l'umanità aveva imparato a leggere e scrivere era bene e però restò questa abitudine questa abitudine del passato e prima che nascesse la scrittura e quelli che trasmettevano il sapere in rima erano chiamati poeti creatori i creatori e questo nome è rimasto ai poeti dei millenni successivi sino ad oggi ma è un residuato fossile ormai un residuato fossile e non c'è più bisogno di mettere le parole in croce in gabbia non c'è più bisogno oggi di mettere le parole in prigione capito con i vari sistemi con i vari sistemi di galera che sono le rime le rime ci sono tante forme di galera per le parole che sono le rime le rime e se continuo ancora oggi a parlare dei poeti sì è vero che c'è anche una poesia libera che non è più rima però te le vedi sì c'è una frase corta poi segui una frase un po' più lunga ti mettono insomma cerca di sopravvivere con la cannuccia con la cannuccia e per cui io in quel pamflet che vi nominavo prima che voi potete leggere gratis intitolato editori e scrittori le ho spiegate per filo e per segno queste cose e oggi per esempio in in italia ci sono mi pare circa 15 milioni di aspiranti poeti capito e il povero duce l'aveva scolpito nel marmo là all'euro al palazzo a roma al palazzo della civiltà che noi siamo un popolo dei poeti c'è scritto così un popolo dei poeti di santi di navigatori e vedi seguito ma numero uno ci sono i poeti capito per cui non ci si deve meravigliare se oggi se oggi troviamo anche un nicchi vendola il governatore delle lontane buce che è un poeta fa il poeta si fa il poeta fa parla come un poeta e vedi seguito la poesia la retorica è la retorica la retorica la retorica è di chi scusate la retorica non c'ha voglia di lavorare capito i poeti non c'hanno voglia di lavorare tutti i mezzi nella poesia c'è nel loro umbilico che si dimenticano perfino di pagare le tasse e pretendono di vivere a spese altrui i poeti di solito pretendono di vivere a spese altrui sì da volte c'erano i mecenati i mecenati insomma morale della favola sti facciamo il poeta ma se poeta vuol dire creatore oggi in italia abbiamo 15 milioni di candidati poeti c'è 15 milioni di aspiranti poeti e poi tra cui c'è anche nicchi vendola perché nicchi vendola io vuole bene al povero duce al povero duce e nicchi vendola ha detto se è il povero duce là sul marmo del palazzo della civiltà ha detto che gli italiani sono un popolo di poeti io pure nicchi vendola siccome sono italiano voglio far poeta e allora e si dimenticano di pagare tassi i poeti capito andate a vedere il mio video specifico intitolato non toccatemi poeti non toccatemi poeti ma le forme della creatività so tante so so tante santa madonna direbbe torino di pietro non sono io che 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 dico santa madonna io copio da torino di pietro quando dico santa madonna capito e allora finiamola con sta faccenda di chiamare i poeti quelli che mettono le parole in croce che crocifiggono le parole i poeti capito e mettono la prigione addosso e la poesia e la creatività in sé per sé io per esempio se dovessi tornare al rinascimento o al tardo medioevo io non direi che il sommo poeta è tanti alighieri io direi che il sommo poeta semmai Giovanni Boccaccio De Camerone quello sì che gli piace ai giovani De Camerone altro che la divina commedia andiamo in inferno purgatorio il paradiso andiamo in rima poi oppure se proprio vogliamo io io il poeta italiano il grande poeta italiano il sommo poeta dire che che Leonardo Davici Leonardo Davici ma è la pressione la pressione di questa parola che ci riporta a a a una umanità che ancora non sa leggere scrivere che trasmette il sapere in rima cantilena la cantilena la cantilena non c'è più bisogno oggi della cantilena cari amici non c'è più bisogno di crocifiggere le parole capito oggi la creatività si manifesta in maniera diversa si manifesta molto più in prosa che in poesia la creatività e Steve Jobs per esempio è un poeta quello sì che è poeta è premio Nobel per la poesia e io lo dovrei buttare a Steve Jobs non so se afferrate le mie idee cari amici se la parola poesia deriva dal greco e significa creazione creazione è poeta è Steve Jobs è poeta e andiamo accademici del Nobel e andiamo su e cercate di capire che l'umanità oggi non c'è più bisogno di trasmettere il sapere con la rima in poesia l'umanità che non sapeva leggere scrivere aveva questa necessità ma è da tanto tempo ormai che l'umanità è capace di leggere e di scrivere oggi i poeti sono i creatori creativi e Steve Jobs è un poeta ed è un poeta applaudito dalle folle tra l'altro e mentre quel signore lì quello scandinavo lì che ha avuto il premio Nobel non lo conosce nessuno che facciano un'intervista a livello mondiale tra i giovani per sapere quanti sono i giovani che conoscono questo nuovo premio Nobel per la poesia questo signore Thomas Franz Trommer gli hanno dato il premio Nobel perché vogliono tenere in vita questa forma arcaica di creatività così tanto per consolarsi un po' capito siccome sanno che ormai ormai sì sì perché la poesia non la legga più nessuno siccome sanno l'accademia che tutto il popolino mi dispiace di queste cose il popolino il popolino l'apribe l'apribe e tutti vogliono essere poeti ma pure il povero duce ve lo devo ricordare per l'ennesima volta ha detto il povero duce sì il povero duce ha detto che gli italiani è un popolo dei poeti e l'ha scritto sul marmone l'ha scritta a marmone ha capito un popolo di povero anche Nichi Vendola è un poeta e io ci ho fatto il video intitolato non toccatemi poeti Steve Jobs sì che era un poeta quello sì che era un creativo ma che che creatività c'è nel mettere le parole in croce in galera in croce o in galera una volta era la necessità di riparisco il concetto una volta prima che l'umanità cominciasse a leggere e scrivere imparasse a leggere e scrivere ma oggi non è più una necessità oggi è una forma di esibizionismo esibizionismo qualcuno ha chiamato la poesia un grande critico letterario eh la chiamata il viagra dell'ego il viagra dell'ego sì sì digitate digitate sul motore di ricerca poesia viagra dell'ego non è stato Serafino Massoni a coniare la locuzione poesia viagra dell'ego è stato un grande critico letterario ha detto la verità e io quel grande critico letterario l'ho riportato nel mio pamflet editori e scrittori che voi potete leggere e scaricare gratis dal mio sito personale hai capito? www.massoni-serafino.it capito? è Steve Jobs è un poeta è un poeta questo sì che è un poeta sì sì certo che la non la danno ai morti il premio Nobel non si dà ai morti non si dà mi pare che sia così il regolamento stabilisca che i premi Nobel debbano essere dati ai viventi e vabbè qualcuno dovrà rimediare a sta faccenda e dare un premio particolare a Steve Jobs per la poesia ma sono tante le forme di poesia andiamo abbiamo dei film che sono delle vere e proprie poesie non c'è più bisogno di crocifiggere le parole per fare della poesia la creatività si manifesta in tanti modi la poesia tradizionale è un genere letterario un genere creativo obsoleto 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 oggi la creatività la possiamo vedere nella cinematografia la potremmo vedere su internet la creatività oppure la possiamo vedere in persone come Steve Jobs questo sì che era creativo ed è stato acclamato da tutto il pianeta poi per inciso e per chiudere perché non vi voglio annoiare troppo cari amici non vi voglio annoiare troppo cari che ci avete tanto da fare ci avete e per concludere devo notare che per quel poco che ho saputo è Steve Jobs sempre che abbia avuto un padre biologico spermatico come uso dire io e che non l'ha tenuto con sé non l'ha tenuto con sé per cui Steve Jobs ha avuto due papà un papà biologico o spermatico e un papà adottivo così mi pare che siano andate le sue vicende e per cui sarebbe interessante sapere se la creatività di Steve Jobs deriva di più dal suo papà spermatico o dal suo papà adottivo cioè che ha un fluido di più su Steve Jobs certo che il fatto di essere stato abbandonato dal papà spermatico essendo tutti in sistema patriarcale quindi il sistema patriarcale ciascuno di noi vorrebbe avere non solo la mamma ma anche il papà e questo deve avere pesato sul bambino sul bambino che per quello che mi riguarda si è portato appresso una forma di moderata depressione di malinconia di malinconia ma la depressione moderata la malinconia sono le fonti le muse ispiratrici della creatività sapete che ha detto voi lo sapete meglio di me che ha detto che lui tutti i giorni pensava alla morte tutti i giorni ci pensava dice vivi ogni giorno come fosse l'ultimo giorno della vita tua capito? uno si porta appresso una forma moderata di malinconia una forma moderata di depressione che ti consente di vedere il mondo è una prospettiva un po' diversa capito? un po' diversa cioè uno che ha un po' di depressione un po' di malinconia è uno che non è drogato cioè non è drogato dalle ideologie perché la droga mica la droga la droga solo dagli spacciatori la droga e la droga è l'imprinting patriarcale no? le categorie concettuali patriarcali che ti droghe no? e tu vivi felice e contento vivi e invece chi ha un po' di malinconia un po' di depressione è uno che non è stato imprintato bene capito? non è stato imprintato bene e le cose le vede meglio le vede al di là delle categorie patriarcali d'accordo? ma c'erano pure le categorie patriarcali pure nel patriarcado magari ci saranno state forme di depressione di malinconia e allora uno che aveva le forme di depressione di malinconia nel periodo patriarcale vedeva le cose al di là delle categorie patriarcali che erano sempre migliori tuttavia delle categorie patriarcali e dice certo che pensava alla morte soltanto i drogati non ci pensano alla morte cioè si può essere drogati in tante maniere appunto con la droga degli spacciatori e con la droga delle categorie che ti hanno imprintato d'accordo cari amici? e lui le poteva vedere infatti è stato un grande creativo per questo motivo perché ci ha avuto delle vicissitudini infantili particolari e il papà biologico mi pare che l'abbia abbandonato e come è avvenuto con Gesù anche Gesù è è stato abbandonato dal papà biologico è stato educato dal papà adottivo Giuseppe è padre adottivo di Gesù il primo esempio di famiglia il grande esempio di famiglia di famiglia è quello di Gesù Giuseppe e Maria il grande esempio di famiglia dove Gesù è un grande esempio di fecondazione eterologa eterologa che posso dire Gesù è un esempio di fecondazione eterologa dove c'è una mamma Maria che riceve il seme da uno sconosciuto e viene fecondata da uno sconosciuto e Giuseppe se ne fa carico Giuseppe è il padre adottivo il padre diciamo così anagrafico adottivo Steve Jobs ha avuto un'infanzia non credo tanto felice d'accordo però dopo questa sua infelicità si è trasformata in una grande creatività poesia però ragazzi poesia Steve Jobs si che è il poeta il poeta dei nostri tempi altro che quelli che mettono le parole in croce cari amici un galera come preferite voi vabbè cari amici questo è il ricordo che Serafino Massoni vi offre di Steve Jobs va bene cari va bene cari grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni